Stardust Shows presenta, direttamente dall'Italia, Celentano Tribute Show, North American Tour 2020, sold out in tutta Europa, ora finalmente in America. Venerdì 6 marzo, Hard Rock Casino, Vancouver. Domenica 8 marzo, Elgin Theatre, Toronto. Martedì 10 marzo, Atheneum Theatre, Chicago. Giovedì 12 marzo, Regen Theatre, Boston. E venerdì 13 marzo, Master Theatre, Brooklyn. Cinque concerti da non perdere. Grazie a tutti.